Muy buenos dias model! Quanta acqua devo bere alla volta che io voglio migliorare il mio metabolismo, accelerare il mio metabolismo e avere un corpo che funziona meglio? Non viene tanto promossa perché ovviamente dire a qualcuno bevi più acqua non fa guadagnare soldi a nessuno, poiché è gratis, però è un consiglio fondamentale quando noi vogliamo migliorare il nostro metabolismo. Nel 1963 Philip George, uno studioso, uno scienziato, una persona che è stata nominata ai premi Nobel, poi non se l'è vinto, però comunque è stato nominato, quando uno viene nominato è perché fa delle scoperte molto importanti. Ha dimostrato di come noi facciamo sempre il nostro disegno della cellula per capire che cos'è il metabolismo. Il metabolismo ha a che vedere con quello che succede all'interno della cellula. Se noi abbiamo dei processi che funzionano bene avremo buon metabolismo, non è vero che è una questione di calorie, perché sennò non ci sarebbero persone magre che mangiano tutto quello che vogliono e non ingrassano. Se tu sei come me e ingrassi solo a guardare il cibo, beh, allora è una questione di metabolismo e non tanto di calorie o di dieta. Questa è la cellula, questo è il mitocondrio. Quindi la produzione di ATP, che è il prodotto finale, ossia l'energia, letteralmente, che Philip George ha misurato in 600 joule. Letteralmente lui che cosa ha scoperto fondamentalmente? Ha scoperto che quando l'ATP viene in contatto con l'acqua, quindi l'idratazione diventa importante per tutta una serie di fattori che adesso vediamo, ma soprattutto si è visto che questo ATP si moltiplica per 10, quando è in contatto, più di 10, che mi sembra che sia, si moltiplica fino a 6.250, quindi più di 10 volte. Quindi abbiamo molta più energia, semplicemente grazie all'acqua. Che cosa fa una carenza d'acqua e perché ci porta a problemi di metabolismo? Uno tra tutti può essere stipsi. Simplemente la stipsi, la pigrizia intestinale, avviene se c'è disidratazione. Una delle prime regole è quello di assumere abbastanza acqua. Si accumulano sostanze tossiche di scarto che ovviamente rovinano il mio metabolismo, fanno sì che si crei più ritenzione, quindi bere acqua risolve stipsi, obesità. Ovviamente un buon metabolismo non può esistere se non abbiamo corretta idratazione. Adesso vedremo la formula, il video è sulla formula per capire quanta acqua. Pressione alta, grande errore che viene fatto tante volte, quello di prescrivere farmaci che sono diuretici. Ma la persona se iniziasse a idratarsi correttamente, beh la pressione si abbasserebbe. Perché assumere un diuretico è l'esatto opposto, cioè noi stiamo disidratando ancora di più un corpo. Certo la pressione scenderà perché con un farmaco vado a curare il sintomo. Ma se io andassi alla radice e dassi la corretta idratazione, la pressione si abbasserebbe. Caviglie gonfie, caviglie gonfie, ritenzione, hanno a che vedere con la disidratazione. Il corpo che cosa fa se si ritrova con poca acqua? La trattiene, perché entra in carestia, perché ne ha poca. Se noi iniziassimo a dare più acqua, beh inizieremo a drenare più liquidi. Pelle, tante volte mi chiedete che cosa posso fare per un alimento, per la pelle, acqua. La corretta idratazione vi farà avere una pelle luminosa. Potete mettere creme, potete prendere integratori in questo caso, alimenti con gli antiossidanti. Quello che volete, ma in realtà se manca acqua la vostra pelle non sarà mai luminosa e avrà un aspetto molto peggiore. Quindi idratatevi, la vostra pelle migliora nel giro di qualche giorno. Reflusso, acidità, ritenzione, l'abbiamo già detto, mancanza di energia, non tutta a che vedere con l'acqua. Comunque andiamo al sodo per non annoiare. Allora la formula è che noi prendiamo il nostro peso corporeo, ipotizziamo che sia 70 kg, lo dividiamo per 7 e ci viene il risultato di quanti bicchieri d'acqua da 250 ml io devo bere durante il giorno. Questa è una formula molto facile che mi dà una indicazione precisa che si è visto funzionare, le persone tornano ad essere idratate, torno ad avere un metabolismo che funziona bene. Ovviamente non è solo questo che si fa per ripristinare un metabolismo, però è qualcosa di molto importante ancora prima di iniziare qualsiasi passo, qualsiasi step. Corretta idratazione, il tuo peso corporeo in chili diviso 7 ti verrà il risultato di quanti bicchieri d'acqua. In questo caso saranno 7 bicchieri d'acqua da 250 ml ciascuno distribuiti durante il giorno. Io sono Luca Veronese, esperto in strategie brucia grassi e metabolismo lento, in questo canale parliamo proprio di questo, se questo video ti è stato utile lascia un like o condividilo con persone che non bevono acqua.